La storia di Angelo Vassallo, il sindaco di Polico ucciso nel settembre del 2010, sarà rappresentata in teatro. Stiamo realizzando, spingue il presidente della fondazione, Angelo Vassallo sindaco pescatore, Dario Vassallo un sogno. La rappresentazione teatrale della storia del sindaco pescatore, che tra qualche mese porteremo in giro per l'Italia e racconteremo a chiunque desideroso di conoscere la vita e l'operato di Angelo. Il teatro dunque sarà il prossimo porto a cui approderà la storia di Angelo Vassallo, che fino ad ora la fondazione a lui dedicata ha veicolato, oltre che con la sua opera di memoria e impegno, attraverso il libro del sindaco pescatore, Dinello Governato e Dario Vassallo, edito da Mondadori. Quindi ancora il documentario Al di là del mare, il format giornalistico, storia di un uomo coraggioso, realizzati e curati dal giornalista Luca Pagliari. Nel frattempo il piano Rai per il 2015 prevede anche un film sceneggiato da Salvatore Basile, prodotto da Solaris Media e Rai Fiction, che racconterà Angelo Vassallo, sindaco e pescatore, eroe civile del nostro paese.